Sì, sì, uscite. C'è niente? C'è niente, non si può entrare. Aspetta un attimo. E meno male che sei da un minuto da solo. Guardi un attimo. Scendi, direi sono. Eh? E devi appoggiare le ragioni. Aspetta, aspetta. In realtà non è che posso parlare, quindi... Un attimo solo, aspetta. Un po' non ho fatto niente. Posso fare una foto al volo? Senti, prima della Fiorentina sei contento di essere arrivata al volo? Eh, poi io parlo. Parliamo dopo. Solo se sei contento. Ci fai un saluto almeno? Un saluto? Da te. Grazie.